Sì, abbiamo giocato benissimo in tre periodi e dovevamo fare due o tre gol, non li avevamo fatti e poi hanno fatto loro il gol negli ultimi quattro minuti e poi non è sempre facile tornare indietro in partita però abbiamo giocato anche bene in novità, per quello dobbiamolo accumulare sulla testa e la prossima partita è già in due giorni quanto va al posteriore, quindi andiamo Appunto, questa è solo la prima partita di Master Round, un Renault che è un pochettino la testa di serie è quella di tutti e tutti dovrebbero battere e logicamente adesso dovete un pochettino lavorare per mantenere il gioco alto Sì, abbiamo una squadra benissima, adesso abbiamo un nuovo portiere e dobbiamo vincere le prossime partite e poi seguiamo Come andrà?